Il rapporto tra i partiti 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 Che cosa si è sbagliato in questi ultimi anni? Cosa si è sbagliato? Cosa si è sbagliato non lo so Probabilmente ci si è adagiati A governare E I nostri politici hanno dimenticato Il senso del territorio Hanno dimenticato da dove vengono E quello che un paese ha legittimamente Coscienza di dove vuole arrivare Questo ha portato poi tutta una serie di cose Che si sono aperte economico Gastaldone Vi ho chiesto anche prima Quanto alte sono le probabilità Le possibilità che all'interno del partito Ci sia effettivamente Una frattura Ci sono nei grandi partiti Questa possibilità c'è Tanto più se pongono in discussione Molteplici opzioni Molteplici proposte Il partito democratico Già due anni fa Inutile nasconderlo Ha avuto problemi Sulla nomina del presidente Della repubblica Sappiamo che ci sono stati Dei dissenzienti Questo c'è anche oggi Per quanto riguarda La fase di governo Non tutti vedono bene Un accordo Una larga intesa Con Forza Italia Larga intesa Che oggi si rende necessaria Perché ricordo Che noi abbiamo Rivotato Napolitano Perché non c'erano I numeri Tra Camera e Senato In ambo le Camere Per dare vita a un governo Alternativo Chi oggi viene a dire Renzi non è stato eletto Dei cittadini Letta non è stato eletto Dei cittadini Monti non è stato eletto Dei cittadini In tutti e tre i casi La legge elettorale Non produceva Non aveva prodotto Non dava origine Alle Camere Una maggioranza forte Sia in un ramo Che nell'altro Quindi non si fa esercizio Di verità Nel dire che bisognava andare A votare ogni qual volta Perché comunque Anche in questo caso Con questa legge elettorale Non si sarebbe riusciti A garantire la governabilità Quindi benvenga Che ci sia una larga intesa Per il tempo necessario Per delle riforme Che non sono riforme Di destra o di sinistra Sono delle riforme necessarie La riforma fiscale La riforma della legge elettorale La riforma in senso istituzionale Che va da rivedere Il taglio del Senato O comunque la sua riduzione A non un organo elettivo E molte altre riforme Che oggi necessitano Per il nostro paese Non sono ripeto Di destra Né di sinistra Sono di funzionalità Proprio per superare Quella stasi burocratica Che il nostro paese In molti campi Oggi lamenta Quindi benvenga Le larghe intese Per un tempo limitato Se questo produce Anche una convergenza Sull'elezione Del Presidente della Repubblica Non possiamo che essere Favorevoli a questo Certo Ci sono i rischi Di divisioni interne Ci sono sempre Nelle grandi scelte Nelle grandi riforme Questi partiti Oggi lamentano Ancora un problema Sono nati Nel periodo In cui c'era La contrapposizione Contro una persona O contro una storia Vale da un lato Vale dall'altro Purtroppo Non l'abbiamo ancora superato Questa fase storica Con la prossima elezione Probabilmente Supereremo Supereremo Allora abbiamo Dei telespettatori in linea Ascoltiamo anche loro Buonasera La signora Michela Se non sbaglio Buonasera La signora Michela Di Annone Veneto Buonasera La realista Ci dica pure signora Ne avrei da parlare Per una settimana Però No no La invito a essere breve Senza tanta retorica Lì in studio Ma noi Io sarò sinteticissima Bravo Concordo con l'editore Casen Quando dice Cominciate a parlare Dei problemi Perché i cittadini Stanno a cuore I problemi Io avrei un nome Veneto Comunque Che a me sta molto a cuore Io trovo una persona Degnissima E sarebbe il magistrato Carlo Nordio Ne prendiamo nota Dopo ascoltiamo Allora sentiamo i commenti Come diceva L'editore Casen Sono i problemi Che interessano la gente L'altro giorno C'era uno da Roma Che diceva Questo è un paese morto Ricordatevi Che questo ormai È un paese morto Solo che non sarà mai Fallito Perché siamo troppi Siamo 60 milioni E siamo troppi Poi C'è stata Qualcosa Che mi ha fatto Adirare Questa settimana Su Rai 3 Visto e considerato Che paghiamo il canone Per tanta pubblicità Rai 3 Ci ha informato Che il Veneto È la prima regione Inquinata La prima regione Per inquinamento Sia ambientale Che altro Noi ci prendiamo Gli scoli Di erbicidi Pesticidi Eccetera Dalle mele Melinga Del Trentino Alto Adige Alle risaie Di Novara Vercelli Lungo il Poe E quant'altro E come se non bastasse Siamo Pieni Di Extra Comunitari Che ahimè purtroppo Come tutti noi Esplicano Escrementi E rifiuti Abbiamo Non so quanti Milioni di turisti Altri Escrementi E rifiuti E abbiamo Un porto Marghera Su cui Ha detto Zaia Che lavorano Ancora Migliaia Di persone In un indecente Stato Di non bonifica Stratificato Dal Conte Volpi Di misurata Nel 1920 Se non erro Vero? Mi chiedo Mi chiedo E mi domando A queste condizioni Come si permette Luca Zaia Di dire Che non finiranno Il morde Perché non vogliono La manutenzione Dov'era la Lega Quando Galan e Chisso Firmavano La calata Dall'alto di Roma Di Clini Di Clini Mattioli Generali Della Guardia Di Finanza E qual'altro Quella compagna Del ministro Clini Che foraggiava La barcolana Di Trieste Dov'erano Luca Zaia E gli altri Non erano Con Galan Mi chiedo E mi domando Poi Adesso La Moretti Mettono le mani In tasca Le popolari Del Veneto L'unica economia Reale Per fare cosa Per pagare I debiti Di Montepaschi Di Siena O per pagare I fallimenti Della famiglia Renzi Qualcuno Mi risponde Per cortesia Adesso Adesso Le rispondiamo Signora Michela Grazie Grazie Del suo intervento Adesso sentiamo Anche il signor Ermanno Da Modena Buonasera Signore Ermanno Buonasera Signor Ottulio Buonasera Professore Buonasera a tutti Buonasera a lei Prego Dunque Le voglio solo dire Che più o meno Quello che dice la signora È una realtà Logica Però c'è un'altra Sapete Alla fine di Craxi Quando la democrazia È stata presa via Perché erano Tutti ladri Che rubavano Non c'era nessun pulito Ci è fatto Una seconda repubblica Secondo me O no Vabbè A questo punto Dove abbiamo Andati a finire I ladri Dove sono Noi ne accordo Che ci sono Raddoppiati O anche di più I ladri E noi stessi Diamo l'esempio Che vogliamo essere migliori Perché Signori C'è un bel po' di voi Che non sono ragazzini Perciò Come siete venite su Avete amato l'Italia O avete amato Amato le vostre tasche Perché bisogna dire Non siamo col fuori Anche noi Perché se io Sono stato all'estero Sono venuto a casa A votare Anche se ho votato PC Ho votato Sbagliato Ma non lo sapevo Però se votava Anche un'altra Era la stessa cosa Io vorrei domandare Signori Perché non mettiamo Una mano Un po' in testa E dire Cominciamo da noi stessi A essere ragionevoli Di guardare Di amare il nostro suono E di vedere Che va bene Perché i politici Abbiamo troppi E troppo Prendono Nessuno dice Ma niente Come mai Un personato Che prende 500 euro Al mese Deve tirare via 3 euro Ma un parlamentare Non so quanto Prende A lui non si può toccare Perché lui è un regno Allora Troppi reggi sono Guardi Io vi saluto Vi ringrazio Signor Tullio C'avrà una lettera Che arriva Che io la mando Che abbiamo parlato Che non è tanto Assieme Buonasera a tutti E buonanotte Buonanotte a lei Grazie Attendo la lettera Abbiamo un altro telespettatore Signor Paolo Dopo rispondiamo Buonasera Signor Paolo Da dove chiama? Signor Trivellato Buonasera A lei i suoi ospiti Io chiamo Dalla provincia di Pavova Casale di Scodosia Prego allora Cosa vuol dire? Guardi Io gli dico una cosa Qua i politici Tutti parlano Ma il vero problema Il vero problema È il mondo del lavoro Di noi operai Continuano a parlare Del Presidente della Repubblica Che io sono del parere Che se mettessero Gli ex ministro Del governo Monti Terzi A breve Tutti i meriti Giulio Terzi Era un Presidente della Repubblica E' stato il giudico Ministro Che si è dimesso Per la causa Dei Maroc Comunque non importa Perché mettono Una persona Che sia Corretta Nei confronti Degli italiani Quello che non è La politica oggi Perché parlano Delle riforme Dei propri interessi Che delle riforme Ormai Ne abbiamo Le scatole piene Le vere riforme Dovrebbero farle Prima roba Per i Per i Per i Per i Per i operai Per noi operai Perché io le spiego Io sono un operaio Da 35 anni Svogo Un lavoro Di verniciatore Un lavoro Che è Come si dice Pagato In busta paga Con 10% Come lavoro Nocivo Ma non è Riconosciuto Come lavoro Un giurante A fine Pensionetici La nostra bravissima Ex ministro Fornero Grande donna Che io la manderei Non le dico dove Ha spostato Tutte le tappe Ma non ha guardato Le categorie Allora io dico A questi politici A questi politici Che vanno In televisione A sbliaterare Tante cose Sbliaterano Di qua Di là E poi vediamo Cosa fanno Tipo Cosa ha fatto Bensito Galeanco La gente lì Che intascano soldi Da tutti gli angoli Sappiamo Sappiamo Allora io dico No 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 Non so se farò tempo Perché No Non so se farò tempo Ma io spero Che mio figlio E mio nipote Che sta per nascere Possa vedere un Veneto Indipendente Un Veneto Un Veneto Un Veneto Che merita Essere una nazione Perché noi Abbiamo 600 cento mila aziende, 44 mila miliardi, 44 miliardi all'anno di tasse e mandiamo a Roma, di soldi. E non abbiamo mai niente. Io dico solo che vorrei una risposta dai politici che sono in studio, no? Sì. Queste riforme delle pensioni, questo dovete fare per dare posto ai giovani. Ormai è una vergogna che mandate le agenti in pensione oltre ai 60 anni, dopo che abbiamo fatto 40, 42 anni, 45 anni in fabbrica. E' una vergogna, dovrete vergognarvi tutti. Perché queste vere riforme dovete fare per la gente. Ci sono pensionati che stanno vivendo con 400 euro al mese, vergognatevi, voi prendete l'unimo stipendio da 5 mila euro al mese. Grazie, grazie signor Paolo. È stato chiarissimo. Allora adesso diamo modo anche di rispondere. Chi guadagna 5 mila euro al mese vi prevene, perché a me non risulta. Personalmente, dopo, non so. Certo, le telefonate che arrivano dal pubblico, però manifestano ancora i problemi che sono stati... No, sui costi è estremamente importante anche ricordare cosa appena è successo in Regione. La Regione Veneto paga, spende di più ogni anno in vitalizi piuttosto che in stipendi. Ciò vuol dire che spende di più per pagare persone che non lavorano più in Regione, magari hanno lavorato per poco tempo, piuttosto che per persone che lavorano. Ma comunque le telefonate rimettono a nulla del problema della casta... Quindi capisco che sono le situazioni di campagna. Però questo non è un fatto della Regione Veneto. È un fatto di tutte e di tutte le regioni. Io volevo arrivare al punto che in questo momento dove va attaccato il costo è sicuramente i costi della politica. I soldi vanno a darci alle imprese... Se ne hai discusso tanto, però poi alla fine... Però poi alla fine se uno vuole può rinunciare ai soldi. Non è che li rinfilano in tasca per forza. Noi rinunciamo ai soldi, li ridiamo da chi? Alle imprese. L'altro giorno c'è stata proprio una lunga intervista a un imprenditore di Treviso che è riuscito a tenere aperta l'azienda grazie al fondo ottenuto grazie ai versamenti che fanno i nostri parlamentari. Quindi si fanno le cose. Se si vogliono si possono fare. Ora, un altro punto molto importante secondo me è quello che ha toccato la signora. La signora diceva Michela... Michela, Michela non è veneto. La signora Michela, io vorrei ricordare alla signora Michela che non è che le cose passano, non ci si ricordano. Noi domani sera saremo proprio a ricordare a tutti i veneti, faremo una grande festa, questa notte dell'onestà che non ha un colore politico. Ci saranno persone disparate, ci saranno tecnici che verranno a parlare proprio delle proposte. Lei dice, ma cosa fate voi? Noi ce le abbiamo le proposte. Sono ferme in Parlamento, non le votano. Noi abbiamo un pacchetto anticorruzione che il procuratore nazionale antimafia, quindi non Jacopo Berti, il procuratore nazionale antimafia è andato dal governo e ha detto me lo potete far approvare il pacchetto anticorruzione di 5 Stelle? È il miglior strumento per combattere la corruzione e la mafia. È fermo da luglio. La prima firma di un senatore tra l'altro di Vicenza, senatore Cappelletti, è là. Le cose vengono fatte, ma poi vengono fermate, vengono bloccate anche dalla Lega Nord. Quindi anche la Lega Nord è votata contro. Vengono bloccate, vengono bloccate dal sistema Nord della Lega. Lo stesso problema è qua in Veneto. Hanno fatto ricorso per il taglio ai vitalizi. Cioè per 400 euro. Veramente ci sono persone che giustamente prendono 400 euro di persone. Ci sono ex consiglieri che prendono 6.000 euro di solo di vitalizio al mese per rinunciare a 400 euro. Hanno fatto ricorso. Allora finché ci sono queste persone che pensano solamente alle proprie tasche. E giustamente dov'è il collegamento tra i cittadini e la politica? Dov'è la politica che risolve il problema dei cittadini? Cioè dobbiamo tornare lì. È quello che io in questi mesi cercherò di dire, cercherò di spiegare. Perché il momento che noi saremo in Regione sarà esattamente quello. Perché la mia speranza, prima che la loro, e ovviamente è condivisa, ma la speranza mia, della mia generazione, è come diceva il Signore, dobbiamo restare sul territorio, dobbiamo lavorare, non me ne voglio andare io per primo. Abbiamo fatto di tutto per aprire le aziende, per gli emigranti. Abbiamo vissuto tutto, l'ho vissuto anch'io nella mia famiglia. Gli emigranti in Germania, andare a lavorare, sappiamo cosa vuol dire. Certo. Certo, certo. Allora, poi... Posso dire? Prego, prego. A proposito di prebende, di spese politiche. Allora, ho fatto un piccolo calcolo. Il Regno Unito spende per la Regina e tutti i castelli, 60 milioni di euro all'anno. In dieci anni ha speso 600 milioni. Il nostro Presidente, perché ne ha fatti nove soli, quasi, ne ha spesi 2 miliardi, 280 milioni. Certo, il costo del Quirinale com'era? Non ho capito. Ieri sera parlavamo della riforma della scuola. Bastavano? Riassumevamo tutti i poveri precari. Questo è un tema che ritorna, è stato il tema forte delle ultime campagne elettorali, o comunque degli scontri politici, e ritorna, vuol dire che non è stato fatto nulla in questi anni. Nel 2001, 140 milioni, e siamo arrivati al 2014, 228 all'anno. Non è che è rimasto 140 milioni all'anno. È raddoppiato e nessuno si è offeso. Poveri italiani, dai... Eh sì, gli italiani... Gostadano, lui, con Cupertini, che rinunciò a vivere... Ma no, ma i soldi sono lo stesso. Perché il mantenimento è sparato. E il meccanismo è quello. Se mi permetti, Tullio, perché cerchiamo anche di fare un esercizio di informazione, se questo è possibile. Il signor Armanno ha detto, io da operaio, 35 anni, verniciatore, ho un reddito... Ha una maggiorazione in busta paga, il 10%. Una maggiorazione dovuta al fatto che sicuramente avrò dei problemi ad andare in pensione, perché mi è stata spostata all'età pensionabile, non è riconosciuto come lavoro usurante, e via dicendo, questi politici prendono tutti troppo. Beh, non è che le persone qui presenti prendano 5 mila euro al mese, non sono gli altri, ma chi fa sindaco è una realtà di 15 mila abitanti, nel nostro padovano, per le dimensioni che è il padovano, prende mille euro alla fine. Stiamo parlando di queste cifre. Sicuramente non sono grandissime responsabilità, forse per qualcuno, per chi le vive direttamente, sono invece delle responsabilità e molto tempo dedicato. Certo, perché anche nella politica ci sono dei ruoli diversi, chiaramente il sindaco di una grande città guadagna di più. Esatto, guadagna di più, ma bisogna fare anche esercizio di informazione, perché altrimenti i cittadini che guardano, come dice lui, blatterare tutte le sere alla TV questi politici, forse non si viene ad informare giustamente i cittadini e ascoltatori di qual è la realtà. È vero, la politica costa troppo, ma costa troppo nelle municipalizzate. E guardo Berti, quando noi oggi abbiamo 39 aziende che lavorano tutte nel trasporto pubblico, nel Veneto, e non abbiamo il biglietto unico, è una cosa sulla quale lavorare. Forse vanno diradate le società e fatto un biglietto unico per il trasporto locale. Abbiamo 108 società che lavorano sui servizi pubblici e in questo Zaia è mancato in questi cinque anni. Le 24 ULSE e aziende ospedaliere che abbiamo, nessuna forma di razionalizzazione, questi sono i costi, secondo me, della politica. Indirettamente sono costi della politica. Certo, lo sono anche questi, ma ce ne sono alcuni che sono molto più evidenti e che gridano vendetta. Sono più evidenti, ma forse costano meno rispetto a tutto questo apparato burocratico che nella sua totalità costa molto di più. Queste sono le spese della Regione. Non è questione di biglietto unico, che potrebbe essere anche una buona idea. Ma pensiamo solo a un turista, no? Sì, no, no. Che viene qui da noi, si perde. Però il costo, perché se guardiamo il costo del trasporto in alcuni paesi esteri e quello che succede a noi, sono due abissi, gli abbonamenti per i lavoratori. Insomma, e quindi vuol dire che c'è una tara talmente grande, che è diventata talmente grande, che è quella che deve essere, il bubone deve essere sgonfiato. Mi rifaccio anche al discorso delle prebende, dei vitalizi, per dire che per esempio nel nostro piccolo, il nostro Alessio Morosini, ha rinunciato al suo vitalizio. Unico caso. È comprovato che basta andarlo a vedere in Regione. E quindi, questo è l'esempio, l'esempio se cominciamo così, ma questo lo possiamo fare in contesti in cui c'è la catena corta di comando, dove io cittadino, se il galan di turno si comporta male, vado a casa sua a dirgli di cambiare, di cambiare atteggiamento, o lo spostiamo, insomma, in un contesto così complicato, così complesso, e così distante, distante fisicamente, ma anche proprio dal punto di vista dei rapporti con il potere, è impossibile, è impossibile. Quindi, io concordo con l'ultimo ascoltatore, signor Ermanno, sia per le sue giuste istanze, ma anche per la sua speranza di arrivare a un qualcosa di più vivibile, perché stiamo vivendo, insomma, in una cappa di cemento armato che sta sempre più scendendo, ci sta schiacciando. Piva, i telespettatori hanno avanzato due nomi, Carlo Nordio e Giulio Terzi. Carlo Nordio è un bel nome. Io credo che i nomi debbano avere anche, trattandosi del Presidente della Repubblica, anche un rilievo e delle relazioni internazionali importanti. Su Carlo Nordio, per esempio, questo non lo individuo, quindi non mi pare che possa essere un nome adatto per ricoprire quel tipo di ruolo. Da questo punto di vista, quindi, secondo me, vanno ricercati altri nomi. Altri nomi. Ho confrontato con Prodi e tutti quanti quelle, diciamo, operazioni che ha fatto, che abbiamo avuto modo di fare, di vedere, Cirio e tante altre cose. Direi che va benissimo un personaggio come Carlo Nordio. cioè, è proprio il caso di cambiare quel meccanismo che conosciamo. Io credo che è un personaggio... Io credo che in quella lista non ci fosse nessuno, secondo me che era la persona giusta, quindi sono d'accordo anche su quello. Tra quelli che abbiamo visto l'inizio, c'era anche Prodi in quella lista. C'era anche Prodi in quella lista. C'era anche Prodi in quella lista. Non, brevemente, dobbiamo andare in pubblicità. Brevemente, volevo soltranquillizzare il signor Armando che io non prendo una lira e mi pago anche i trasporti quando vado a Roma o quando qualunque parte. Però detto questo, è vero, se lui riconosce che i politici prendono tanti soldi, i nomi ce li ha davanti, alle prossime regionali non li voti, li mandi a casa. Cioè, io sono il primo a dirlo. Poi è anche facile per il Movimento 5 Stelle dire che in regione comunque non si è fatto, perché non essendo al potere è facile sparare sul treno che passa. Ma il Veneto è stato bravissimo. Adesso non dico che Zaia è stato il numero uno. Zaia è stato un buon ragioniere che ha gestito il bene che ha fatto qualcun altro anche prima. La sanità del Veneto è leader in Italia. Non possiamo non riconoscere quello. Certo, se poi andiamo in cerca di vedere dove sta solo il marcio oppure andiamo a vedere i problemi economici, certo, parliamone, però riconosciamo che il Veneto comunque sta lottando in un mondo quello nostro dove ci sono i tagli e qui abbiamo un sindaco che meglio di lui può dire quello che gli stanno togliendo dalle mani per i suoi cittadini. Allora è facile dirci tutte queste cose, però riconoscetevi caro signor Normanno non li voti, i nomi ce li ha. Hai i nomi di quelli che hanno votato per questo famoso Evolumento, li avete i nomi. Hai i nomi di quelli che non hanno voluto la seconda preferenza. Ah, non li voti, li mandi a casa, è tempo che vadano a casa. Comunque se no si può dire che si potrebbe governare meglio. Sì. Andiamo a pubblicità. Andiamo a pubblicità. Andiamo a pubblicità. C'è sempre da fare. Siamo in pubblicità, vediamo tra due minuti siamo qua. Ritorniamo al studio. Tra poco. Siamo in pubblicità. Grazie a tutti. 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 Il nuovo centro-destra è in crescita anche lui rispetto a una settimana fa perché dal 3,6 passa al 4,3 e all'europeo aveva avuto il 4,4%. La scelta civica sostanzialmente è in calo, anzi no, sostanzialmente è in calo lo 0,3%, altri dell'area di governo 0,5%. In totale l'area di governo ha il 43,1% a fronte di un 46,4%. Che è sbagliato però è un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. è un'altra parte di 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 un' Passiamo dal 16,8% delle elezioni europee al 15% di adesso, passando per il 14,9% della settimana scorsa. Andiamo alla seconda pagina, Lega Nord, la vedo all'11,5%, aveva il 6,2% alle europee, quindi praticamente raddoppiata rispetto al voto delle europee, il 10% la settimana scorsa, quindi viene data in crescita. Poi i Fratelli d'Italia in leggero calo rispetto alle europee, dal 3,7 al 3,2% e poi Sinistra Ecologia e Libertà dal 4 al 2,8% di adesso, Rifondazione Comunista in calo dal 4 all'1,4%, i Verdi e altri partiti, l'altro partito 3,4% rispetto allo 0,8%. Non si esprime, siamo al 48% degli intervistati, che sono stati 2.000 comunque, hanno espresso la non volontà di votare, quindi resta abbastanza elevata ancora la stensione. Allora c'è questo balzo in avanti della Lega rispetto all'europea del 2014. Siamo Anzolini, è un risultato che conoscete, adesso al di là delle percentuali che possono essere chiaramente, puramente indicative. Salvini sta lavorando molto bene, soprattutto sta portando avanti un'idea di cambiamento in tutta Italia, quindi sta portando la Lega su un cambiamento rispetto a quelle che erano le direttive che erano state date con Bossi. Un cambiamento, sempre con questa voglia federalista, ma soprattutto anche quella di portare il Paese con un maggiore controllo verso l'immigrazione e soprattutto su quella che è la politica europea. Perché questo è quello che sente il cittadino in questo momento. I due grandi problemi che vengono avvertiti sono la sicurezza, l'immigrazione, soprattutto legata a queste clandestinità, a questi sbarchi e dopo l'Europa. L'Europa è uno dei grandi problemi che noi ci sentiamo addosso. La politica di Draghi, quella che sta facendo, lo sta confermando. Certo, certo. Sostanzialmente vi avvicinate, anzi alcuni sondaggi vi danno anche già avanti rispetto a Forza Italia. Questo è da vedere. Certo che è un partito che si sta impegnando molto. Il risultato stesso di aver portato a casa 3 milioni di firme per un referendum che non vogliono fare, aumenterà ancora nei confronti della Lega un consenso. La gente sente che è un partito che ha voglia di cambiare, che ha voglia di portare avanti e che cerca di avvicinarsi sempre di più agli italiani. Certo. Il Partito Democratico sostanzialmente mantiene la posizione, questa donna. Sì, per quanto possa credere ai sondaggi, perché giustamente bisogna attendere le elezioni vere. Certo, certo. No, bene, sono solo delle intenzioni di voto, come dicevo io, per il valore che possono avere. Forse si capisce che, come dice sempre bene l'editore Kasen, lo sforzo che sta facendo Renzi viene avvertito dalla gente. Capiscono anche la difficoltà a tante proposte nel dar seguito, perché la burocrazia dello Stato, l'ordinamento di questo Stato, rende difficoltoso qualsiasi riforma. I tempi che si era proposto Renzi, da persona impavida sicuramente, i 100 giorni, non sono tali. Oggi la macchina dello Stato non la riforma in 100 giorni. In 100 giorni riesci a malampena a capire dove sono le difficoltà. Io credo che con lo slancio che presenta ogni giorno, con la volontà di riformare, che sicuramente testimonia nei decreti, nei moltissimi decreti, nelle moltissime proposte anche di legge che il governo ha emanato, la gente ne capisce chiaramente la buona volontà. Ci vuole tempo. Purtroppo le riforme, abbiamo visto nove anni di centrodestra, senza fare alcuna polemica, non sono riusciti a riformare lo Stato. Abbiamo avuto, e questa sì che è una battuta, qualcuno che ha tentato di portare i ministeri a Monza, alla Villa Reale. Queste non sono le riforme. Si tenta di fare qualcosa di più, di meglio, di più rispondente alle necessità dei cittadini. Riforma fiscale, riforma catastale, riforma del pubblico impiego, tutte cose sulle quali adesso ci si concentra. Spero che vi sia il tempo per Renzi, anche a fronte di questa fiducia, per lavorarci. Professor Marino, questa difficoltà nel riformare il Paese, il meccanismo, un sistema che si attorciglia su se stesso? Ma viene detto che ci sono, per esempio, i frenatori, ma io personalmente ho sempre pensato che bisogna riformare quello che ha bisogno di essere riformato e bisogna fare una riforma che sia migliore di quello che c'era prima. Cioè, secondo lei, il sistema è troppo complesso per permettere queste riforme? Il sistema, di solito, cioè se c'è un sistema, tende a, diciamo, conservare se stesso. Però, cioè, se vogliamo fare la teoria del sistema che conserva se stesso, ci sono, ci può essere. Cioè, riforme sono state fatte, poi bisognerebbe valutare se le riforme hanno migliorato, se, perché non sempre la riforma è fatta, perché andiamo a vedere le riforme che sono state fatte, le nuove leggi che sono state fatte, cioè, spesso noi possiamo chiederci se intanto erano delle buone riforme, non sempre ci sono delle buone riforme. Beh, però, mi permette, bisogna andare a pur provarci, no? Perché se no... No, chiaramente sì, no, chiaramente sì, però a volte si vede, cioè, ci si può chiedere anche se si riesce a fare quello che si intendeva fare, perché, per esempio, guardiamo, per esempio, guardiamo alla legge elettorale. Cioè, si riesce a ottenere quello che si... oppure a volte si è cercato di farlo, ma il risultato non è stato quello sperato. Il professore ha detto in maniera molto subilina che è difficile cambiare il sistema, però è un sistema così complicato che ti lascia fare la riforma per peggiorarla rispetto a quello che c'era prima. No, 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 però, va bene, però questo, cioè, che vi sia un sistema che, appunto, opera in questa maniera qui, questo però è da dimostrare come c'è, cioè, perché le leggi si possono modificare, modificare, solo che però bisogna stare attenti a fare bene questo. Certo, questo è un aspetto, poi ci sono delle tempistiche però che... No, perché c'è l'eterogenesi dei fini. C'è l'eterogenesi dei fini. Ho una lettura diversa rispetto a Mandolini e quello che dice il professore, e alcune riforme che sono sentite e volute anche dalla popolazione, a volte per necessità di fretta, non vengono fatte bene. Vediamo la riforma delle province o la cancellazione che sta andando per passi, purtroppo si tagliano su alcune cose e non si tiene conto di qual è l'ente che sostituisce o che va ad esempio ad assorbire i dipendenti. Tutte queste cose qui arriveranno, ci vuole tempo, purtroppo qualcuno rimane nell'ingranaggio, bisogna farsi carico anche di queste persone. Però tu, a casa tua, quando devi cambiare qualcosa, sai già cosa metti dopo? Sì. O togli e cambi senza sapere cosa fai? Perché questo è un paese che togli e fa senza sapere quello che fa dopo. Beh, ne abbiamo contestato negli ultimi vent'anni. Allora vedi che tutto sommato, quello che ti sto dicendo, ha un senso. Sì, ma io non sto contestando quello che tu dici. Perché? Ti dico che a volte sulla spinta popolare, dicevamo che le province non vanno bene, sono fonti di spesa. Cosa abbiamo fatto? È stato uno dei tagli proprio, no? Esatto. Abbiamo tolto l'indirta agli amministratori provinciali, non sono più eletti dei cittadini, ecco la maggior distanza dei cittadini, e abbiamo fatto una riforma non fatta bene, che toglie sì dei costi, però lascia dei servizi scoperti adesso. Adesso ce ne accorgiamo. Anche queste cose devono essere modificate. No, no, ci sono dei servizi. Non ci si è pensato. Chiuderle basta. No, chiuderle basta, chi è che ti fa l'urbanistica a livello provinciale? Io sono invece per il mantenimento della provincia, se ha senso. No, io sono per la cancellazione della provincia e nel delegare le funzioni a realtà territoriali, che comunque devono esserci. Perché alcune funzioni trasferite a Venezia, ritorniamo a come erano cinque anni fa, non hanno un altro centralismo. Centralismo veneziano, non più romano, e non avevi risposta. Non si chiameranno province, si chiameranno compartimenti, come... L'altro di fatto è questo. Cambiare, come diceva bene il professore, bisogna stare attenti quando si cambia, perché si corre il rischio di fare peggio. Questa della provincia è ad esempio eclatante, che è andato fuori come è stato fatto peggio. Ma per un semplice fatto, perché si improvvisa, perché abbiamo anche dei turnover politici che sono pazzeschi su queste cose qua. L'unico obiettivo che si vuole raggiungere è risparmi. E al di là di questo, e questo vale per tutti, ci sono le guerre in destino e dentro la politica. Scusate un attimo, abbiamo un telespettatore in linea. Buonasera, il suo nome da dove chiama? Ah sì, buonasera, sono Maria Paola di Ferrara. Ah, l'avevo riconosciuta. Buonasera signora Maria Paola, prego. Buonasera dottore, tutto bene? Sì sì, ci dica, ci dica. Allora, io ho seguito con molti interessi anche stasera il vostro dibattito. E mi rivolgo ai rappresentanti della Lega e del Movimento 5 Stelle. Volevo dire che di innovativo nella politica italiana in questo momento ci siete voi, nel senso che la Lega non esiste più, la vecchia Lega è stata spazzata via, e meno male, no? Il Movimento 5 Stelle è un movimento giovane, dove ci sono molte persone giovani, e quindi io auspico che il Movimento 5 Stelle si faccia conoscere di più, veramente per quello che è, cioè perché avete un leader che delle volte fa, scusate il termine, un casotto che non si capisce più niente, è poco democratico, perché se non dite quello che dice lui vi caccia. Io spero che abbiate la forza, dato che siete così giovani e belli e forti, di poter cambiare al vostro interno, per poter portare le istanze degli italiani con maggior vigore, ma anche con più visibilità. Un'altra cosa però io vi devo dire, voi sull'immigrazione non avete preso nessuna posizione, o se l'avete presa, l'avete presa molto blanda, mentre la Lega si spende tantissimo, e siccome è un problema, dei problemi, dei problemi per l'Italia, perché sapete benissimo che noi stiamo ospitando, cioè diamo spazio ai racket delinquenziari, a tutte le mafie del mondo, e non mi stancherò di dirlo, e anche per il terrorismo e l'istimizzazione che sta facendo il nostro paese, con Bebe Placido di Renzi, di Napoletano che c'era prima, di quello che verrà, perché tanto il Presidente della Repubblica che verrà tra qualche giorno è già stato scelto, e di quello che può fregare, può importare agli italiani, non interessa assolutamente nulla. Quindi io auspico che i partiti vecchi, tipo il Partito Comunista, non il Partito Comunista, perché tanto è sempre uguale, si sono spassati via al più presto, se ne vadano tutti, e finalmente forse potremo respirare un po'. Buonanotte. Grazie. Grazie signora Maria Paola. Adesso abbiamo un altro telespettatore, abbiamo Antonio. Buonasera signora Antonio, da dove chiama? Buonasera, siamo da Roma. Buonasera signora Antonio. Senta, come avevo ripromesso, giustamente avete fatto una dovutissima trasmissione sempre sulle elezioni del Presidente della Repubblica, quindi io voglio dire un'ulteriore cosa. Prego. Volevo dire, secondo me sarà molto importante, può darsi che sbaglio, però mi hanno insegnato che la politica è specialmente poi negli ultimi 20-30 anni, ma è stata sempre importante comunque, io penso che le elezioni greche potrebbero influenzare da un punto di vista opposto sia l'elezione del Presidente della Repubblica sia il risultato del, diciamo, come posso dire, l'ascesa o la discesa di alcuni partiti. Mi spesso meglio, se eventualmente dovreste vincere, e per farlo da un punto di vista obiettivo, non faccio riferimento a un punto di vista politico, se dovesse vincere il leader greco Sipras, e quindi sarebbe costretto, come il professore Kasen mi può insegnare, a rinegoziare il debito, perché chiaramente l'ha detto, quegli interessi non li può pagare. Allora, da un lato potrebbe avere, da un lato, un effetto sull'elezione del Presidente della Repubblica, punto nostro italiano, perché chiaramente noi dovremmo a questo punto garantire che non potremmo permettere, le classi che tuttora, diciamo, governano il nostro Paese, non potrebbero permettersi di fare un autosadio, cioè una persona che sia al di fuori di quello che è l'establishment, diciamo, europeo. C'è una sostanziale continuità di quello che ha fatto Napolitano e in precedenza gli altri Presidenti della Repubblica. Però, dall'altro lato, questa vittoria greca potrebbe in qualche maniera dare più forza, più fiato, a prose il comizio che ha fatto Diplas e l'ha fatto insieme al leader di Spagnolo di Podemos, che si dice che è il primo partito attualmente in Spagna, secondo quelli che sono i sondaggi elettorali. Questa vittoria potrebbe dare fiato anche alle forze come la Lega, che è qui come al solito presente nelle vostre trasmissioni, o altre forze, in qualche maniera, che mettono in discussione, pur da punti di vista di versi l'euro, e potrebbe in questo modo avere un effetto, in questo senso, molto interessante. Grazie. Grazie a lei. Buonasera. Grazie, signor Antonio. Signor Antonio, da Roma. Certo, in questo fine settimana c'è questo importante appuntamento elettorale in Grecia. Piva, secondo lei, che influenza potrà avere? Secondo me avrà una forte influenza da noi in Italia, ma soprattutto a livello europeo. In Europa la presenza di una Grecia più determinata nel mettere in discussione anche alcune delle regole europee, che per noi costituiscono un forte limite in termini di attenzione, non solo a quelli che sono gli obiettivi, gli obiettivi di finanza pubblica, ma noi diciamo che serve anche un obiettivo sociale. Noi dobbiamo pensare che l'Europa deve pensare anche alle difficoltà in questione dei nostri cittadini. Noi lo viviamo in prima persona come sindaci, dove vediamo che giorno dopo giorno le difficoltà dei cittadini non pensano certo ai parametri che vengono messi a livello europeo. Serve una flessibilità di questi parametri, qualche segnale lo stanno dando, la Banca Europea ha dato il segnale di oggi che credo sia molto importante, ma credo anche che sia importante che un'altra nazione, oltre all'Italia, oltre alla Francia, metta in discussione quei forti limiti che sono un limite allo sviluppo in questo momento e anche a riprendersi di un'economia, le nostre economie locali, che devono essere più aiutate. Non serve aiutare le banche, su questo sono fortemente d'accordo, dobbiamo aiutare le imprese e perché è da lì che può ripartire il lavoro, aveva ragione quei telespettatori di Casale, di Scodosia, noi dobbiamo parlare di problemi vivi della gente, oggi il problema principale è il problema del lavoro, che non c'è, lo tocchiamo tutti i giorni, credo che il tema della legge elettorale, se noi chiediamo ai nostri cittadini, fosse l'ultimo dei problemi che essi hanno, è il problema di dover giorno dopo giorno affrontare i problemi sociali. Certo, andiamo un attimo in pubblicità, è l'ultimo break pubblicitario, e dopo ritorniamo subito, TV7 Match, a tra poco. Match, a tra poco. Allora, qu Lemora, Ancestà che ha fatto, soprattutto il lavoro, che è importante un studio Throughout, abbiamo, abbiamo noi suoi fatto, alle Oneli, sono tutti i book tw Peyton同imi, abbiamo revelato in pubblicità, e quindi abbiamo presente sociale e persone conodsane, quando vog Starsi e persone conodsane con sarre te, quindi vi spreadino diversa, abbiamo�lege o che abbiamo fatto, abbiamo trovato ichi dei situazioni personali, abbiamo abbiamo un paras Grazie a tutti. 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 e adesso è a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.